E' da quando è stato postato questo post che ci stiamo chiedendo tutti, ma che ci fanno insieme? Questi due. La cosa non ci avrebbe tanto sorpreso se fosse stato uno di loro a postare questo post, ma invece a pubblicare queste foto è stato Hideo Kojima. Quindi facendo due calcoli, sapendo che Norman Reedus è il protagonista di Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima, e che Keanu Reeves è uno dei protagonisti di Cyberpunk 2077 in cui ci sono vari riferimenti a Hideo Kojima, come il fatto che possiamo trovarlo durante una missione all'interno dell'Afterlife. E sempre nel corso di un'altra missione del gioco possiamo trovare anche il pod del BB di Death Stranding. E visto che Death Stranding 2 è in produzione, possiamo ben ipotizzare che Kojima ha qualche cosa in mente per questi due. Magari una comparsa in Death Stranding 2 per Keanu Reeves. Però sappiamo anche che Norman Reedus ha un programma sulle motociclette a cui è partecipato anche Keanu Reeves con il suo marchio Arch. Però è strano che ci sia Kojima, con lui c'è sempre di mezzo un videogioco. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.